Manca esattamente un mese alla visita pastorale di Papa Francesco a Cesena e Bologna e nell'attesa la macchina dei preparativi non accenna ad arrestarsi, tanto da parte delle diocesi che lo accoglieranno, quanto della Santa Sede. Nella mattinata di ieri, infatti, il pontefice ha ricevuto in udienza in Vaticano gli ordinari di Bologna, l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi e di Cesena Sarsina il vescovo Douglas Regattieri. Sostanzialmente, ha affermato Monsignor Zuppi ai microfoni della Radio Vaticana, si è parlato di queste visite pastorali e dei temi che le caratterizzeranno, profughi, lavoro e poveri. La visita del Papa a Cesena si inserisce nelle celebrazioni del 300esimo anniversario dalla nascita di Papa Pio VI, uno dei quattro papi di cui si può vantare la città malatestiana. Sarà una visita lampo di sole due ore, che tuttavia amplierà i confini della geografia bergogliana, richiamando il precedente del 1986 di Papa Giovanni Paolo II, che si trattenne per alcuni giorni. Francesco, al suo arrivo all'ippodromo di Cesena, sarà accolto dal vescovo Douglas Regattieri, dal prefetto Fulvio Rocco De Marinis, dal presidente della provincia Davide Drei e dal sindaco Paolo Lucchi. Qui troverà la Papa Mobile, che seguendo un percorso transennato raggiungerà Piazza del Popolo, dove saluterà la folla di fedeli prima dell'incontro con vescovi, sacerdoti e diaconi previsto nel Duomo. Grazie a tutti.